Il progetto ha preso il via tre anni fa ed è diventato vero e proprio modello operativo anche a livello nazionale. Stiamo parlando del tavolo contro le dipendenze che a Pavia, a partire dall'assessorato comunale alle politiche giovanili, vede impegnate sinergicamente diverse istituzioni, tante associazioni e realtà del territorio e tanti operatori della città, con l'obiettivo comune di dare risposte e trovare soluzioni all'emergenza dipendenze, a partire dall'alcol, passando per la droga fino ad arrivare al gioco d'azzardo e a tante altre, che purtroppo coinvolgono sempre più spesso i nostri giovani. Il progetto entra ora nella sua quarta annualità e martedì presso la sala consigliare di Palazzo Mezzabarba e il tavolo contro le dipendenze si è riunito e sono state delineate le linee guida del lavoro futuro a partire da settembre. Assessore Rodolfo Faldini, oggi in sala consiglio con Palazzo Mezzabarba si riunisce il tavolo permanente sulle dipendenze, un progetto che entra a partire da settembre nella sua quarta annualità. Quali sono state le linee guida che sono state delineate oggi? Beh, innanzitutto la necessità di rendere questo tavolo, questo organismo, un osservatorio permanente sul mondo giovanile ed in secondo luogo la necessità anche di istituzionalizzare alcuni percorsi di educazione e di formazione che magari possono essere effettuati nell'ambito extrascolastico. Noi siamo intervenuti in questi tre anni in una maniera preponderante, incisiva e con efficacia con la collaborazione del mondo scolastico, quindi con l'ausilio delle dirigenze scolastiche che non hanno fatto mai venire meno il loro contributo e la loro collaborazione. Quindi una istituzionalizzazione anche esterna, magari destinando parte delle risorse che sinora sono state riservate dentro la scuola al di fuori. Questo per poter formare e per poter innalzare la consapevolezza degli educatori, quindi dei docenti e soprattutto delle famiglie. Quello che è emerso dall'indagine di maggio, quando abbiamo distribuito 2000 questionari per raccogliere le impressioni da parte dei giovani, è che è opportuno, è necessario concentrare attenzione anche sulla formazione degli insegnanti per poter prevenire il rischio delle dipendenze e soprattutto coinvolgere e fare in modo che partecipino a questo momento di educazione e di formazione le famiglie. E questo è quello che è stato sottolineato anche nel corso della riunione di oggi, 24 luglio, che ha visto coinvolte anche altre realtà territoriali che potranno andare ad arricchire il lavoro della rete e arricchire anche il numero della stessa rete che ha in previsione di poter diventare una cosa strutturata e permanente anche nei prossimi anni. Sì, siamo con il consigliere provinciale Giacomo Galazzo che oggi ha rappresentato la provincia in questo tavolo contro le dipendenze, una rappresentanza istituzionale, una rappresentanza anche generazionale essendo tu un giovane consigliere provinciale. Quanto è importante nell'ottica della prevenzione delle dipendenze un lavoro sinergico di questo tipo? Penso sia fondamentale, insomma, perché questo attiene un po' all'idea che ho io, che abbiamo noi del ruolo dell'ente locale. Insomma, l'ente locale deve avere un'iniziativa, ma questa iniziativa la si costruisce solo interagendo con chi tecnicamente e professionalmente si dedica a questi temi. In particolare, io penso, parlo anche per la provincia che su queste cose ha una competenza specifica che, ad esempio, se si parla di dipendenze, ne è venuto fuori anche oggi, dei ragazzi, insomma, il rapporto con le scuole è fondamentale perché l'ente locale dà l'input politico, ma poi a parlare con i ragazzi, per parlare con i ragazzi per utilizzare moduli comunicativi efficaci con i ragazzi, penso ci voglia un contributo anche tecnico, professionale, scientifico, direi. E quindi è importante che gli enti locali interagiscano un po' con tutti questi soggetti, così come con le istituzioni sanitarie della nostra città e, insomma, con tutti i soggetti che possono dare un contributo. Come provincia abbiamo partecipato a questo lavoro, abbiamo fatto anche delle proposte, che so, sul tema del gioco d'azzardo, sul tema della rete, su cui abbiamo dei progetti in corso anche noi. Il tema della prevenzione delle scuole è un'attività centrale della nostra amministrazione, penso ad esempio al lavoro che abbiamo fatto con i ragazzi delle scuole sull'HIV e quindi, insomma, cerchiamo di continuare questo lavoro di rapporto con il mondo della scuola e con tutti i mondi che possono darci una mano su questo terreno.